Ciao ragazzi! Dopo il video sui pantaloni che saranno qui in per la stagione con inverno 2019 a grande richiesta sia qua che su Instagram vi trovate con Rene Closet oggi andiamo a vedere insieme quale saranno i jeans più di moda per la stagione siete volte a prendere appunti e a far venire come sempre cioè come sempre una voglia matta di shopping quindi se avete linkato qua sotto su iscriviti e sulla campanella per dare supporto al mio canale avete messo un like al video nel caso in cui vi piacesse quindi sarei felice anche di questo allora direi di iniziare subito con questo video jeans vai! Jeans oversize a vita alta iniziamo subito con i jeans oversize a vita alta cioè i jeans che sono effetto almeno tre tagli sopra la nostra e si portano strizzati in vita con una cintura e con i disvoltini in fondo a me piacciono moltissimo perché danno un tocco di grinta a tutto il look e vi faccio vedere quelli che abbiamo indossato su Instagram proprio qua mom jeans i mom jeans ovvero i jeans attillati sulla pancia, sul sedere, sui fianchi che poi scendono un pochino più largosi fino alla caviglia dove si fermano sono sicuramente il jeans più amato da tutte le ragazze ma anche da quelle più grandi celle tipo la sotto scritta e anche il modello di jeans più longevo infatti è un modello ancora più di moda per quest'anno quindi anche per l'inverno 2019 e quest'anno viene riproposto anche con altri abbinamenti ad esempio con gli stivali da provare un modello di jeans invece più nuovo della stagione che è a detta così ora vi dico tutto sembra orribile poi tra parentesi sono sicura che verrà reinterpretato sicuramente in forme più accessibili anche per persone normali non solo le modelle in passerella dove si sono viste questi jeans e il jeans cavallerizza quindi molto largo sulla parte superiore a vita bassa un cavallo un pochino più basso la gamba stretta fino a chiudersi la caviglia io ve l'ho detto jeans a sigaretta cioè quei jeans che non sono skinny ma non sono nemmeno palazzo quindi scendono diritti come appunto una sigaretta e questo tipo di jeans sono ormai un evergreen li trovo molto eleganti perché stanno bene anche un po' tutti i fisici si indossano con tutto e questa stagione cioè anche questa stagione i jeans a sigaretta spopoleranno un po' in tutti i negozi quindi potete fare incetta poi perché mi ha chiesto nel corso di queste ultime settimane se i pantaloni a zampa sono ancora di moda la mia risposta è sni cioè i pantaloni rarchi sul fondo ci sono, non sono di moda ma sono soltanto i flare cioè quelli con un'apertura della gamba sotto diciamo al ginocchio un pochino discreta cioè non larghissimi larghini ma strettini sono molto chic abbinato soprattutto al tacco poi i jeans cropped ovvero i jeans che si sono croppati tipo jeans culotte che si fermano alla caviglia e sono ancora presenti nei negozi sia in versione pantalone palazzo sia in versione come abbiamo detto flare però appunto cropped quindi tagliati alla caviglia ole questi erano i jeans più di moda della stagione che tutte le fashionistas amano ma non tutti le amano quindi voi voi fatemi sapere cosa amate e cosa no quindi scrivetemelo qua sotto nei commenti io vi leggo tutte come sempre e noi ci sentiamo su instagram perché mi trovate con Verena in closet con tutti mia vita privata i miei consigli sono le chiacchiere insieme e noi ci sentiamo poi su youtube qua con il prossimo video un bacione muah muah